in studio con voi rosario moreno iniziamo con domenica 27 maggio la notizia turchia la lira incaduta riva rispetto allo dollaro così aumenta il peso dei debiti con l'estero e rischia anche l'economia in questo quadro la banca centrale si è distinta per una quasi immobilità difficilmente comprensibile se non fosse per le pressioni che subisce da tempo da parte della presidente erdogan l'istituto si è mosso solo mercoledì scorso per alzare il costo del denaro e del 3 dal 3 al 16 il virgola 5 per cento troppo poco e troppo tardi secondo molti osservatori il rialzo ha dato una boccata di ossigeno ma la crisi della lira turca sembra tutt'altro che risolta lunedì 28 maggio reggio calabria furbetti del cartellino nel comune di bova marina indagati per assenteismo 22 dipendenti su 25 su 25 dipendenti del comune di bova marina 22 sono indagati per assenteismo per 5 di loro non state eseguite non è stata eseguita l'ordinanza di interdizione messa e messa dal gip davide lavolo su richiesta della procura della repubblica di reggio calabria diretta da giovanni bombardieri l'inchiesta della guardia di finanza così toccata con 38 per cento dell'amministrazione comunale del piccolo paesino della zona ionica in sostanza 9 dipendenti su 10 non andavano a lavorare martedì 29 maggio austria meno soldi ai rifugiati che non parlano bene tedesco richiesto livello b1 il principio della riduzione del sussidio stabilito nella riforma dello stato sociale il leader del partito di destra all'fpoe heinz christian strach dice i costi stavano esplodendo il premier course contro le quote dei migrati mercoledì 30 maggio all'italia indagati tre amministratori delegati cioè cassano montezemolo e cramer per bancarotta la settimana scorsa la guardia di finanza aveva perquisito la sede e acquisito la documentazione degli ultimi bilanci la gestione etia definita nel numerino della procura di cività vecchia che indaga sul buco da 400 milioni che ha portato la compagnia al commissariamento giovedì 31 maggio governo la stampa tedesca probabilmente uscite dall'italia dice probabilmente uscite dall'italia dall'euro l'ex ministro fisher dice crisi peggiori di quella greca sulla frankfurter algemein zeitung l'economista hans werner sin si vede a pochi passi dall'addio all'unione monetaria nel suo editoriale per di zeilt mark schieritz giornalista politico economico scrive salvare l'italia meglio di no il titolare degli esteri nel governo schroeder dice l'europa sta affrontando una crisi che ne minaccia l'esistenza cari amici insomma vi sbagliavate di grosso voi tedeschi venerdì primo giugno governo conte e i ministri hanno giurato al colle finalmente ha fatto il governo la tria nessuna forza politica in italia vuole l'uscita dall'euro la squadra del governo giallo verde si è presentato ufficialmente al quirinale poi il primo cdm per l'assegnazione delle deleghe ai ministri senza portafoglio e la nomina del sottosegretario giocetti in serata le celebrazioni per la festa della repubblica mattarella dice italia protagonisti in europa il neo titolare di castello dell'economia difende la moneta unica verso voto di fiducia in aula martedì 5 al senato e mercoledì 6 alla camera e per finire sabato 2 giugno pensioni l'unione europea chiede sacrifici ma aumenta il budget per quelle che i suoi funzionari sforando i 2 miliardi di euro nel bilancio 2019 un aumento del 6,2% del budget per pagare gli assegni agli euro burocrati in pensione una cifra è mai raggiunta prima eppure il trattamento è già da super privilegiati maturna il diritto alla pensione dopo solo 10 anni di servizio e ne goda da partire dai 66 in alternativa dai 58 la beffa dove sta? gli importi sono calcolati con il metodo retributivo che l'Italia ha archiviato proprio su impulso dell'euro europea a partire dal 1995 e questa è una grande vergogna cari amici un'enorme vergogna per l'Europa bene cari amici con questo è tutto vi ricordo che avete ascoltato RST Spazio 7 la segna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorso in studio con voi Rosario Moreno vi ricordo che RST Spazio 7 è in collaborazione ed edito da RST Science e Pianeto GTV buon proseguimento con la programmazione grazie grazie grazie